Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui di nuovo tornato per il secondo video sul mio computer perché come vedete è arrivato il monitor il monitor che è un... aspettate vi faccio vedere un Asus modello... vabbè questo qua insomma WE248 LCD LED bla 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 quello che vi verrà a voi 24 pollici mi pare quindi è anche abbastanza grandicello e andiamo ad unboxare aspettate perché questa sarà una cosa un po' complessa allora, dunque io intanto ho già tolto lo scorcio qui dietro altrimenti ci mettiamo una vita allora dunque aspettate eh, qui la volta è piuttosto complessa possiamo anche togliere lo scatolone e vi faccio vedere subito un po' di pezzi ovviamente qui abbiamo il basement ovvero la base base ovviamente da montare, da attaccare insomma al monitor non è che c'è molto da vedere qui faccio vedere lo stesso qua qui con la guida per montarla e questa è la base poi, 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 allora qui abbiamo istruzioni varie manuale poi abbiamo un po' di cavi abbiamo, allora oh, come dire che abbiamo già il cavo per collegarlo al computer che cos'è questo cavo? allora eh sì ragazzi penso questo sia il cavo per collegarlo sì, infatti confermo per collegarlo al computer poi ancora un po' di cavi questo ovviamente è l'alimentatore per la corrente altro cavo altro cavo video, credo quindi forse questa è addirittura per l'altra definizione non vorrei dire bagianare poi c'è questo doppio jack audio vabbè insomma, un po' di cavetteria varia ma direi di passare al pezzo forte che ovviamente è lo schermo ecco qua no dunque togliamo la carta protettiva se riesco ed eccolo qua ragazzi è bello grande come potete vedere quasi non sta nella di un'immagine aspettate che mi allontani un po' ecco ecco qua ragazzi il monitor insomma vabbè ragazzi non ci sta tutto nell'immagine qui ci sono tutte le varie diciamo etichette con le caratteristiche di questo schermo ovviamente full hd best air speaker 2ms risposta led buona insomma e andiamo a vedere il retro con anche le entrate ok allora questo intanto è il retro con la scritta asus non è neanche bruttissimo come il retro ed ecco le entrate andiamole a vedere una per una abbiamo le entrate video ovviamente eccole qui poi abbiamo un usb questo è il jack audio questo non so francamente forse l'ottico non so cos'è questa entrata forse è l'entrata ottica per l'audio non lo so però e poi 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 qui abbiamo ovviamente si vede poco vabbè perché è tutto nero comunque l'entrata per l'alimentatore e poi qui sotto abbiamo tutti non so se riesco a farveli vedere tutti i vari tasti per la regolazione del monitor e bah gli direi che questo era il monitor ragazzi ora datemi il tempo per montarlo ve lo faccio vedere subito montato molto bene ragazzi eccolo qui il mio monitor montato bello pronto sto scaricando Team Fortress intanto qui c'è un video di youtube aperto vabbè comunque vi faccio vedere la mia postazione diciamo definitiva sistemata allora cominciamo dal pc beh non badate a questo filo ragazzi che è il filo della webcam comunque ecco cerchiamo di levarlo pc sistemato qui da quest'altra parte c'è il subwoofer del del sistema audio saliamo sulla scrivania e questa è la sistemazione generale aspettate ok eccola qua tastiera mouse con tappetino con Totti quando era giovane e la Ferilli sotto la curva sub vabbè piccola parentesi vabbè qui c'è hard disk esterno hdpvr i due casse il capitano anche lì e e il monitor eccolo qua bene ragazzi direi che con questo video posso concludere qui vi ringrazio per avermi seguito spero che sia stato di vostro prendimento e ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.